Grandi eventi e misure di sicurezza. L'organizzazione della prossima edizione del Carnevale di Sciacca deve contemplare non solo le misure antiterrorismo già sperimentate lo scorso anno, ma anche le disposizioni della circolare Gabrielli. Insomma, non c'è solo la questione dello spettacolo carnascialesco da mettere a punto in meno di un mese, ma anche il piano straordinario per l'ordine pubblico e la sicurezza. E infatti si susseguono gli incontri tra amministrazione e rappresentanti delle forze dell'ordine, anche perché il mese di febbraio sarà particolarmente impegnativo. In pochi giorni Sciacca vivrà prima il grande momento di fede e devozione alla Madonna del Soccorso, giorno 1 febbraio con il voto e il 2 febbraio con la processione del simulacro della patrona della città. Poi dall'8 al 13 febbraio la baldoria dei giorni del Carnevale. Dunque torneranno i blocchi agli ingressi della città, ci sarà da disciplinare varchi e vie di fuga, da predisporre i punti di raccolta e di assistenza che impegneranno la protezione civile, le forze dell'ordine e le associazioni di volontariato. Intanto questa mattina l'assessore allo spettacolo Filippo Bellanca ha presieduto un incontro con gli operatori del CERT, il Servizio per la Prevenzione delle Tossicodipendenze dell'ASP, finalizzato all'avvio di una campagna di sensibilizzazione rivolta ai giovani. L'incontro si è tenuto in sala giunta, presenti il responsabile del CERT, lo psichiatra Paolo Libassi, la sociologa Elisa Jovino e la psicologa Elena Montagna. Un incontro propedeutico, riferisce il Vice Sindaco, per concordare le iniziative da promuovere assieme nell'ambito della campagna di sensibilizzazione contro l'abuso di sostanze tossiche tra i giovani, soprattutto alcol. Ci saranno degli incontri nelle scuole con operatori qualificati e personale della Polizia Municipale, per far passare tra i messaggi quello di un uso consapevole e soprattutto responsabile di sostanze alcoliche durante la festa, per un divertimento sano e vero nei giorni di Carnevale, conclude Filippo Bellanca. Saranno settimane di intenso lavoro anche per le otto associazioni culturali che stanno allestendo i cinque carri allegorici di categoria A, i due carri di fascia B e il Peppe Nappa, che animeranno la sfilata e l'esibizione conclusiva in Piazza Angelo Scandaliato da sabato 10 a martedì 13 febbraio. Alla fine le scuole, elementari e medie, parteciperanno alla prossima edizione del Carnevale con i propri gruppi folcloristici. Si è preso atto delle difficoltà a realizzare costumi carnascialeschi e balletti in poche settimane, ma soprattutto del fatto che i gruppi delle scuole avrebbero giocoforza ridotto la partecipazione di bambini e ragazzi ai gruppi che precedono i carri, mettendo in difficoltà le associazioni culturali che, come previsto nel bando, devono essere composti da almeno 40 elementi.